Buonasera, buonasera, benvenuti anche al punto di luce di questa sera e come al solito siamo insieme a Don Roberto Ponti. Buonasera Don Roberto. Buonasera Adriana e buonasera a tutti. Come al solito scegliamo un tema che riguarda l'attualità per farci riflettere e lo spunto di stretta attualità che hai scelto questa sera non è il discorso di Mattarella, perché di Mattarella abbiamo già parlato. È un po' vero, sì, forse è il punto di luce più forte di questa giornata, però usiamo un altro punto di interesse che sta facendo ragionare e riflettere tante persone. Che è quello del Festival di Sanremo, della musica, della canzone italiana che in questo momento... Ma sai che ad esempio il derby che c'è sabato sera lo fanno alle 18 e non alle 20 e 45 proprio per evitare Sanremo, perché è diventato un evento a 360 gradi. Ha un'attrattività, un interesse che fa ascolti, che interessa, che fa discutere. Questo penso sia positivo soprattutto dopo periodi molto lunghi in cui si è stati monotematici e quindi si faceva fatica ad uscire da un circuito informativo un po' bloccato. Si parlava sempre solo di malattia, di covid, di vaccini, parlare anche di musica e di canzonette ci fa diventare un po' più allegri, ci farà allegrare, ci solleva lo spirito come abbiamo messo nel titolo. Dopo parleremo anche nel dettaglio di qualche evento che ha catturato l'attenzione dell'opinione pubblica non per la musica in sé ma per dei significati. Prima però procediamo come al solito, la musica per sollevare lo spirito, hai scelto due opere d'arte come al solito. La musica che entra anche nell'arte, nell'arte figurativa, quella che riusciamo più facilmente a presentare e a proporre anche qui alla riflessione di voi che ci ascoltate e che qualche volta anche mi scrivete, chiedete delle spiegazioni, quindi ricordo potete sempre scrivermi whatsapp o email, è un modo così di tenere aperto il dialogo. Ho scelto un quadro molto famoso di Caravaggio che è il suonatore di Liuto, è un quadro famoso, ne esistono due versioni, cioè Caravaggio ha dipinto questa stessa opera con dei particolari un po' diversi ma in due versioni diverse, una che è la più antica al Museo Hermitage di San Pietroburgo e l'altra che invece a New York mi sembra. Quindi cosa vediamo in questo quadro? un giovane che suona lo strumento, dicono gli esperti di interpretazione di lettura di un quadro, si vede come è stato rappresentato questo giovane che è un esperto suonatore. Si capisce, io questo non lo sapevo, si capisce che l'esperto dà le labbra socchiuse perché sta quasi cantando. Questo è l'altro particolare da sottolineare, le labbra indicano quasi socchiuse, indicano che sta cantando, quindi è un giovane suonatore di Liuto ma forse sta anche cantando. Quindi va bene per Sanremo. Come dire, è un quadro molto bello che riprende... Perché poi c'è la frutta, c'è lo spartito, ci sono i fiori... Un altro particolare importante è lo spartito, che è proprio una musica particolare, sono dei madrigali di Jacob Arcadelt, quindi è scritto bene anche lo spartito, poi ci sono delle nature morte che arricchiscono l'insieme del quadro. Poi c'è anche un violino, quindi è un doppio suonatore, perché c'è l'iuto ma c'è anche il violino. Certo, c'è l'archetto, il violino, quindi è un esperto di musica e di canto. Va bene, la seconda opera invece, più recente? La seconda opera è più recente di Marcia Gall e rappresenta, meglio il titolo è Le coque rouge dans la nuit, il gallo rosso nella notte, quindi il colore dominante è il blu, ci sono due figure maschile e femminile che rappresentano Chagall, l'autore stesso e sua moglie. Questo quadro nasce proprio in un periodo di intensità emotiva per la dipartita la morte della moglie di Chagall, penso 1946 e poi c'è questo violino con la testa di capra di cavallo che simbolizza come la musica e che vuole comunicare con tutte le forze della natura, quindi tutti gli aspetti e questo gallo rosso che dà un colore così intenso è come voler rompere e irrompere nella notte e cambiare l'atteggiamento verso quello che sta succedendo. E appunto ci sono i quattro elementi della natura rappresentati nel quadro, terra, acqua, aria e fuoco, quindi la totalità del creato, anche se l'opera non è un'opera religiosa. E' proprio questo violino con la testa di cavallo che vuole entrare in comunicazione con tutte queste rappresentazioni dell'universo intero. E a proposito, c'è un collegamento con Sanremo, esatto. C'è un collegamento con Sanremo perché questo quadro sarebbe all'origine di una canzone molto famosa che è nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno perché l'autore di questa canzone, Franco Migliacci, si sarebbe ispirato al blu del quadro di Chagalli. Di questo quadro, che è un blu cobalto, blu elettrico, noi diremmo adesso, un blu molto bello. La cosa è un po' come dire enigmatica e anche un po' curiosa perché Franco Migliacci si sarebbe quasi, come dire, addormentato, forse in preda ai fumi di qualche bevanda e risvegliato davanti a questo quadro e l'ispirazione è nata così. Per la canzone appunto nel blu dipinto di blu che vuol dire un blu molto intenso. Quindi abbiamo collegato le opere d'arte anche a Sanremo. Adesso però entriamo nell'attualità del Sanremo di queste due prime serate. un record di ascolti pazzeschi e come al solito Sanremo si porta dietro una serie di argomentazioni che non sono anche solo musicali. Si parla anche di moda, di cultura e anche di religione e noi cerchiamo di fare il punto di luce su due aspetti abbiamo scelto, hai scelto. Il primo è quello che riguarda la canzone di Fabrizio Moro su cui ci possiamo soffermare. Perché è interessante il tema che tratta Sei tu e Fabrizio Moro l'ha un po' spiegata. Chi è questo Sei tu? Anzitutto questa ballata è molto bella, è molto orecchiabile. Sì, è molto bella. E racconta un po' la sua esperienza di rapporto con chi gli sta attorno. E il tu a cui si riferisce lo dice lui stesso. Ovviamente sono le sue persone care, la sua famiglia che gli sta vicino e anche in momenti difficili perché Fabrizio Moro ha parlato della sua esperienza di difficoltà, di depressione. E per uscire da questa depressione lui ha parlato dell'amore come vera medicina per uscire da questa circostanza difficile. E ha parlato anche della fede e quindi di Dio. Un altro tu che può essere protagonista di questa canzone è senz'altro Dio come esperienza di fede profonda e Fabrizio Moro ne parla espressamente perché è quello che l'ha fatto uscire da un momento buio. L'ha aiutato quindi una sorta di conversione, l'ha aiutato in questa sorta di conversione che ha attraversato. Sì, è un cammino che ha attraversato. Devo dire che Fabrizio Moro poi ci ha abituato all'ultima canzone che aveva fatto quella con Ermal Meta, che era anche quella molto bella. Sono sempre tutti testi molto impegnati. Molto intensi. Non sono canzonette anche se poi appunto partecipa al festival di Sanremo e probabilmente ha scelto con la canzone di quest'anno di mettere in evidenza anche il suo percorso interiore. Quindi non raccontare qualcosa di esterno ma raccontare proprio la propria esistenza. E questo forse dà anche dei buoni risultati perché mi sembra che almeno nei primi giorni lui sia in una posizione al decimo posto. L'eguale riconosce la classifica. Al decimo posto quindi non è andata male. Sì, anche se è certo qualcuno avrebbe potuto pensare se parli di queste cose non vieni notato. Invece alla fine la canzone è stata apprezzata allo stesso. Ripeto, lui poi è un artista apprezzato a 360 gradi e quindi anche il fatto di parlare di una propria esperienza sicuramente lo ha premiato. La seconda invece esibizione di cui ci occupiamo adesso, questa invece diciamo che ha sollevato una serie di polemiche più che di approvazioni, soprattutto da un certo ambito religioso. Diciamo c'è chi dice evitiamo anche di parlarne, così almeno non accresciamo l'attenzione su questo tipo di comunicazione che può essere anche letta come strumentalizzazione del sacro in un ambito che invece è totalmente diverso. Io dico ci lasciamo prendere in considerazione, diciamo prendiamo questo gesto che oltretutto Achille Lauro aveva un po' previsto nella sua comunicazione sui social, addirittura aveva detto essendo il compleanno di mia mamma e pubblica una foto da lui da bambino, forse proprio nel giorno del battesimo allora dedico quello che farò a Sanremo a mia mamma che mi ha dato la vita e quindi un po' forzosamente ha fatto questo gesto. Il gesto è quello alla termine della sua canzone di battezzarsi da solo, infatti la foto che abbiamo visto è quella in cui lui termina la canzone, si inginocchia, c'è questa conchiglia, prende l'acqua che in teoria rappresenta come se fosse un'acqua battesimale e se la mette in testa, quindi si autobattezza. Rappresenta il battesimo perché non è un battesimo, il battesimo si amministra e quindi certo è che può farlo chiunque, non si può autobattezzarsi, quindi non c'è questo. Il fatto che ha richiamato il battesimo e un po' strumentalizzandolo l'ha rimesso in luce, in evidenza, ha creato un interesse attorno al battesimo come un sacramento importante per i cristiani. Diciamo a volte noi cristiani ci risvegliamo davanti a queste situazioni estreme in cui una parte, un aspetto della nostra fede viene un po' estremizzata e strumentalizzata, forse dovremmo ricordarcene sempre e essere capaci di capire, di vivere e poi anche di testimoniare in maniera autentica. Quindi direi noi cristiani... Cioè tu dici prendiamo il lato perché l'osservatore romano ha fatto una descrizione, una nota su questo fatto, secondo me molto ironica, veramente da fare un applauso, nel senso che l'ha contestato ma l'ha contestato in maniera elegantissima dicendo se vuoi fare quello fuori dagli schemi non sei stato all'altezza di David Bowie che aveva fatto delle performance anche quelle molto dissacranti ma l'osservatore romano dice di qualità nettamente superiore, quindi non dice è una roba brutta, dice è una roba che non ti considero quasi. Poi ragionavamo su questo preparandoci che forse quello che fa più effetto e su cui bisognerebbe riflettere e anche reagire in un modo positivo è il testo della canzone che propone una domenica vissuta in una maniera veramente diciamo dissoluta ma anche poco umana e poco umanizzante. Quindi quello che tu dici la cosa da contestare è la sua concezione di domenica non quel gesto. È quello su cui bisognerebbe lavorare e aiutare i giovani di oggi a migliorare, a capire meglio il senso della domenica direi il senso del riposo, il senso anche della fede per chi ce l'ha, per chi la vive e magari non banalizzare tutto come si fa nella canzone, banalizzare il rapporto tra persone, banalizzare la relazione di affetto e amorosa verso una persona ecco tutto è reso veramente in una direi un piattume Quindi secondo te è peggio quello del gesto con cui concluderà? Ma diciamo che tutto l'insieme rischia di essere un trash che non è molto utile e non è un canto per sollevare lo spirito Che è quello da cui siamo partiti, che poi appunto la musica e il canto hanno un ruolo di rilievo ce lo spiegano anche delle fonti autorevoli Adesso lasciando poi la stretta attualità che è quella di Sanremo appunto il canto e la musica hanno anche un valore etico, morale nella nostra persona e ce lo spiega anche il Cardinal Ravasi parte da Sanremo Allora sentiamo il Cardinal Ravasi sulla musica e il canto Lei è un grande amante della musica, tanto che ha fatto anche dei tweet popolarissimi in occasione di Sanremo Quanto conta oggi la musica, non solo la musica classica apprezzata da tutti ma anche la musica pop nel linguaggio, nel modo di comunicare di oggi? Innanzitutto diciamo che la musica di sua natura è proprio una delle espressioni universali È una sorta di esperanto tra tutti i popoli Non è necessario neppure certe volte saperne la componente tecnica per riuscire ad esserne conquistati Io comincerei certamente a celebrare l'importanza che anche nei giovani entri la grande musica del passato con la sua straordinaria potenza Però dall'altra parte bisogna ricordare che il giovane di oggi come ritratto che noi delle generazioni precedenti abbiamo in mente è il giovane che cammina per strada con le cuffie che sta ascoltando un'altra musica che è completamente diversa, che ha una grammatica differente che ha delle tonalità inattese e che però è il grande modo, io credo, per incontrare la bellezza anche se, come ben sappiamo, può avere essa stessa questa musica al suo interno anche degli elementi di accecamento, di degenerazione Non dimentichiamo mai che nella cultura classica antica esisteva Apollo con la sua musica armonica che potrebbe essere anche la musica di questi giorni ma dall'altra parte esiste anche Dioniso che era il dio della musica che acceca che rende qualche volta irrazionali le persone Noi dobbiamo fare in modo che la musica dei giovani sia la nuova tipologia di comunicazione Quindi la musica di Apollo e non quella di Dioniso? Sì, diciamo c'è una scelta da fare, quindi non si può accogliere tutto in maniera così senza riflettere, senza capire, davanti a un brano musicale, davanti a una canzone se vogliamo utilizzarla bene, anche per, come dire, per andare verso il bello bisogna capire se la comunicazione è fatta veramente attraverso il bello e non in forme adulterate che possono addirittura creare una situazione negativa Beh, ci sono delle forme di musica soprattutto contemporanee che portano anche un po' all'assenza anche dei comportamenti un po' dissoluti queste sono forme di musica che dice Ravasi che sono negative per i giovani forse è interessante il ragazzo che gira con la coppietta e che non sappiamo cosa ascolta Sanremo è l'occasione di ascoltare tante canzoni in poche ore e quindi la possibilità di scegliere, direi, scegliamo il meglio che è dove si trova anche una comunicazione che tende a far passare dei valori e non soltanto così creare un'attrattiva attraverso dei gesti che non sono quelli corretti Quindi tu dici la musica anche come veicolo di valori? Direi proprio di sì La musica come veicolo di valori e ci sono alcuni cantanti di Sanremo stesso che la utilizzano in questo modo, che vivono la musica come abbiamo fatto l'esempio di Fabrizio Moro che ha utilizzato una canzone per raccontare il suo percorso personale che è anche un percorso di fede Ce n'è un altro di cantante noto che ha calcato il palcoscenico di Sanremo celebre anche per il suo rapporto con la fede che viene raccontato che è Neck Ecco sì, più volte abbiamo anche ascoltato sue testimonianze ne abbiamo trovata una che non è forse recentissima ma dice delle cose molto belle Allora sentiamolo Il mio rapporto con la fede è in continua crescita anche oggi Grazie all'esperienza vissuta con Novi Orizzonti Il desiderio di vedere di più, di conoscere di più, di sentire qualcosa di più E questo credo che sia importante soprattutto per i giovani che hanno un'idea magari non troppo chiara di cosa sia la fede che deve essere una forza, deve essere qualcosa che si alimenta quotidianamente qualcosa che ti supporta soprattutto e questo parlo di esperienza personale ti supporta soprattutto nei momenti in cui sembra che tutto ti debba crollare addosso Le sofferenze che ci sono all'interno di una qualsiasi comunità in questo caso noi parliamo di Novi Orizzonti perché io ho deciso di supportare e mi sento parte integrante di questa grande famiglia le sofferenze delle persone che stavano per perdere la dignità di essere che rischiavano di morire fisicamente e spiritualmente e hanno trovato qualcuno su cui aggrapparsi quindi lì per esempio Dio non è più visto come una divinità ma come qualcuno che entra dentro ognuno di noi e nella disponibilità di ognuno di noi opera quindi c'è sempre comunque questa sorta di collaborazione che è questo che mi ha affascinato profondamente il fatto di essere una persona che ha capito certe cose e di conseguenza non essere diverso da quello che sono è il più grande degli insegnamenti, il più grande degli esempi essere esempi noi stessi io ovviamente ho tanto da imparare attraverso mia figlia attraverso le persone che mi accompagnano in questa crescita sicuramente migliorerò io e sarò un punto, spero, di riferimento per chi come Beatrice Maria sta crescendo e si affacerà al mondo e lo farà, mi auguro, attraverso dei consigli che posso dare io che poi io non so se Neck ha avuto un'evoluzione nel corso della sua carriera musicale anche di fede o se è già partito così penso che sia un'acquisizione che lungo la sua vita ha cambiato il suo modo di vedere e anche appoggiato a una comunità di fede come i nuovi orizzonti ha avuto poi una progressione molto interessante che ha portato anche a dire apertamente il suo percorso di fede questo è bene va bene, adesso dobbiamo aspettarci qualcosa dalle prossime serate di Sanremo perché ne abbiamo viste un paio magari ci saranno altri punti di riflessione che poi appunto non è solo musica è anche altro adesso ci fermiamo diamo qualche istante la linea alla regia e poi ci occupiamo come al solito di lettura e vediamo che cosa ci consiglia oggi Don Roberto Ponti e tra poco rieccoci, rieccoci sempre con Don Roberto Ponti stiamo parlando di musica, di canto vediamo i consigli di lettura consiglio di lettura il primo è un po' legato ancora ovviamente al tema del giorno perché si tratta di un libro che è stato rieditato e riaggiornato e l'autore è David Maria Turoldo insieme al Cardinale Ravasi di David Maria Turoldo ricordiamo la sua capacità poetica e alla base della canzone c'è la poesia c'è la poetica questo testo molto bello ha cambiato titolo si intitola ora Canti nuovi è una riproposizione dei salmi quindi i 150 salmi della Bibbia e anche delle preghiere e delle poesie commentate anche dal Cardinale Ravasi con un'introduzione che presenta anche il rapporto tra il Cardinale Ravasi e Turoldo di cui ricorrono i 30 anni dalla morte ed è molto bello ascoltare una sua testimonianza di cui sentiamo direttamente dalle sue parole vediamo Paolo Ravasi e Turoldo vi sono poeti che occulti distillatori della loro poesia proprio dei solitari altri invece la cui poesia fa corpo con la loro figura fisica con i loro stessi compagni con i loro impegni a quale categoria si sente di appartenere? beh, egoisticamente vorrei dire a tutte e due ma poi è il mio essere che mi tradisce il mio essere è di dilagare e quindi di comunicare io sono nato in una vasta pianura sotto la montagna mi sentivo così proprio espandermi sulle cose espandermi sul mondo e la poesia come distillazione e come direi esercizio letterario direi poesia come egoismo non può esistere cioè ritorno ancora sul concetto di prima perciò io se ha un significato la mia poesia è quella di essere un dono continuo all'umanità questo anzi è un atto religioso per me quando io faccio poesia prego, canto e canto in nome di tutti canto per tutti bellissimo preghiera uguale poesia uguale canzone un vero poeta che vuole comunicare cantando cioè la poesia diventa un canto ed è bello a volte durante le liturgie riprendere i canti di padre Turoldo quelli più famosi come il signore il mio pastore e risentirli vedere come è riuscito a rimettere le parole dei salmi con una ritmica con una poetica che ci permette di utilizzarli nell'oggi va bene per chiudere come al solito la frase la frase del punto di luce che hai scelto la frase ah no c'è un altro libro no possiamo scusami il secondo libro è colpa mia una proposta di approfondimento della Bibbia con una collana che si intitola la Bibbia per tutti offerta anche in supplemento quindi come allegato a famiglia cristiana per riappropriarsi per approfondire la Bibbia ho messo in evidenza questo primo volume sull'Antico Testamento ma poi si ripercorrono tutti i libri della Bibbia e anche delle letture teologiche degli approfondimenti degli studi molto utili molto agili e molto ben fatti pieni di colori e di testi ben preparati e anche piccolino lo vediamo è di facile è piccolo ma interessante è di facile gestione adesso c'è la frase invece adesso c'è la frase finale andiamo a prendere un cantautore che ascoltiamo spesso anche in tv e che ci dice come gli uomini cantano quando le parole non bastano quando non riescono a dirle forse perché da sole sarebbero persino ridicole quindi l'importanza di cantare significa comunicare qualche cosa in più qualcosa in più della parola ecco è Roberto Vecchioni che è un cantautore forse anche lui ha avuto anche lui un rapporto molto complesso con la fede sì però è arrivato a un approdo particolare e forse ci fa capire come cantare per tutti io dico gli intonati anche gli stonati significa far esprimere far emergere quello che sia dentro e comunicarlo più pienamente quindi forse invitiamo tutti a canticchiare non solo sotto la doccia lungo la giornata perché ci aiuta a comunicare meglio certo perché oltre alla parola c'è la musica e quindi è una è vero è vero una comunicazione più ampia sicuramente io ringrazio Don Roberto Ponti grazie a voi che ci avete seguito proseguite con i nostri programmi e poi ci vediamo la prossima settimana per un altro appuntamento con il punto di luce arrivederci buonasera questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana il settimanale della famiglia grazie a tutti